Bentornati su MyFootballGersy. Oggi vi presento la prima maglia della Juventus per la stagione 23-24, quella che deve ancora incominciare, in edizione FAN. 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 Nella mia classifica, questa prende 5 stelle. La abbiamo già visto in una anticipazione, la trovate qui in alto, la recensione. Quest'è ancora più bella! La versione definitiva secondo me è spettacolare. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso, una maglia fatta sicuramente benissimo che arriva molto velocemente e vi ricordo che quel costo che vedete comprende anche le spese di spedizione vi ricordo di andare in descrizione qua sotto per trovare tutti i riferimenti per ordinare la maglia cosa importante trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari quindi il costo diminuisce ulteriormente prima di lasciarvi alle misure mi raccomando lasciateci un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale a voi non costa niente e a noi ci permette di crescere e di avere sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan